E sono tre, la Dinamo piega la fortitudo e incassa la terza vittoria di campionato, la prima in casa. Mezzogiorno di fuoco ieri al Palaserra di Migni, tra i biancoblu e la F dell'ex Meo Sacchetti. Un match disputato sul filo del rasoio dove Referto, nei primi due tempi, vanno la montagna di palle perse dal banco oltre dieci e gli emiliani a pieno regime col duo Banks-Aradori. Bilani in gran spolvero con una doppia-doppia già nel terzo quarto e Barnelon Fire nel post basso non bastano. Gli ospiti balzano infatti sul Piotto e da lì sembrano non volersi schiodare. La svolta arriva solo nel finale. Il banco inserisce le premesse del pari, coi rimbalzi dei lunghi, tra cui il redivivo Tillman e i micidiali contropiedi. Sul fronte bolognese due perdite pesanti, HEP per 5 falli e Writers per infortunio. A 1.20 della sirena il tabellone recita 83 a 83. Entra in scena Marco Manofredda Spissu, che della lunetta li imbrocca tutti, approfittando pure del rimbalzo offensivo di Bilan, che rimedia il buco di Benjus dalla distanza. Mancinelli invece, dalla preghiera, si rivolge evidentemente al numero sbagliato. 1 su 2 a 45 secondi dalla fine e altro passo falso negli ultimi spiccioli di partita. 89-86 il punteggio finale per il team dell'altro grande ex del match, Gianmarco Pozzecco. Felice di aprire con una vittoria, una settimana impegnativa. Mercoledì Galatasaray per la prima di Champions e domenica a Mestre l'eterno nemico, la Reier Venezia.